Il messaggio di empowerment femminile che io vorrei dare a qualsiasi donna è di credere in se stesse, di essere sempre forti, di non permettere mai nessuno di definire il tuo valore e soprattutto di limitare le tue potenzialità. Siete voi le protagoniste della vostra vita e non avete solo limiti ma avete solo possibilità. Definire la bellezza autentica con una frase che mi ha molto colpito, ossia la bellezza esteriore piace agli occhi mentre quella interiore affascina il cuore. E con la bellezza interiore io intendo l'animo, quello che abbiamo dentro, ossia la purezza, la semplicità, l'aiutare il prossimo e secondo me la bellezza interiore è ciò che rimane per tutta la vita mentre quella esteriore si rimane però poi va a scemare con il tempo. Se dovessi diventare Miss Italia influenzerei le nuove generazioni sicuramente attraverso l'utilizzo di social, attraverso anche incontri personale o altrimenti attraverso collaborazioni insieme a società educative. Il messaggio che trasmetterei è quello di crescita, consapevolezza e autenticità, in particolare l'importanza della conoscenza che ti permette di avere possibilità ma anche di libertà. E soprattutto di credere sempre in se stessi, di essere se stessi e di non aver paura del giudizio degli altri. E anche trasmetterei il concetto che sì, il cambiamento e le difficoltà avvengono ma sono quelle che appunto permettono di farti crescere. Grazie.